Alessio Biagioli, sindaco di Calenzano. Calenzano, secondo una ricerca di lega ambienti, è risultato il comune più sicuro d'Italia dal punto di vista di dissesto idrogeologico. Come avete fatto? Il lavoro è partito da lontano, con finanziamenti e progetti che risalgono ormai a più di 10 anni fa. Abbiamo realizzato quello che il piano d'autorità di ambito idraulico prevedeva, cioè la realizzazione di vasca di laminazione in cui quando il fiume arriva a livello soglia in cui gli argini non lo contengono più, invece che esondare sulle abitazioni esonda in zone alluvionabili dove non crea danno. Oltre a questo c'è l'aspetto di non aver realizzato costruzioni in zona di allagamento, un'opera costante sulla manutenzione e sul rifacimento degli argini, noi insieme al Consorzio di Bonifica, provincia e regione che in qualche modo in questi anni hanno operato su quattro torrenti presenti sul nostro territorio. Quindi siete riusciti anche a far parlare in maniera proficua i vari soggetti che si occupano della questione grazie anche all'aiuto di molti volontari. Questo non le ha rubato consenso evidentemente come spesso invece si dice? No, rubato consenso no. Abbiamo destinato delle risorse, risorse anche importanti, si parla di milioni di euro, a fare queste opere di messa in sicurezza invece che opere più semplici come possono essere giardini, strade o altro. Certo, abbiamo fatto anche giardini e tante altre cose, però è evidente che un giardino o una nuova scuola porta più ritorno immediato, un'opera idraulica molto spesso viene considerata quasi come qualcosa di inutile, una cosa in più. L'abbiamo spiegato, i cittadini l'hanno capito, oggi a fronte anche dei disastri che avvengono in Italia, questo ritorno c'è stato.